Abbiamo la Tina Turner del giornalismo in questo programma e ci colleghiamo con la nostra Giovanna Botteri. Tina Turner, magari, magari. Eccola, ciao Giovanna. Allora, dove ci porti oggi con quel mappamondo? Con questo mappamondo ti porto in Baviera, a Firf, perché a Firf in Baviera, 100 anni fa, esattamente 100 anni fa, nasceva un giovane ragazzo, ebreo, tedesco, che poi nella vita è diventato molte cose. È diventato a 15 anni un rifugiato politico, perché la famiglia ha dovuto scappare dalla Germania, ha dovuto fuggire il nazismo e Hitler, si è fino, Henry è diventato, Henry è diventato Henry, Kissinger, quel Kissinger tedesco, gli è rimasto sempre come l'accento. Ha cominciato, ha cominciato a studiare, parlavate di scuola, ha cominciato a studiare, è andato a Harvard, ha fatto il militare nella South Carolina, si è addestrato e poi è andato nell'esercito. E poi, utilizzando tutto quello che aveva preso in quella Germania da cui era scappato, in quel suo essere profugo, in quel suo studiare, in quell'esercito, ha sviluppato qualcosa di straordinario, che l'ha portato ad essere un premio Nobel per la pace, un grandissimo, esperto, incredibile, stratega di politica estera, un uomo che ha determinato in molti momenti della nostra storia, passata più o meno recente, il nostro destino e la nostra vita. Cento anni di Henry Kissinger, un uomo incredibile. Ma tu l'hai conosciuto, Giovanna? Allora, io l'ho conosciuto ed è assolutamente come te lo immagini, con questo sguardo vivissimo, perché poi ci sono tutte le cose perché a cento anni è così, il suo cervello funziona, perché beve così, semplicemente perché ci sono quelli idioti a venti e quelli super intelligenti a cento, no? Cioè non è che sia... ed è con questo a cento, perché nonostante oramai viva in America da 85 anni, non ha perso quell'accento tedesco che gli è rimasto e gli è rimasto sempre. Ed è caustico, è spiritosissimo, è caustico. Io l'ho incontrato nel momento dell'ascesa di Donald Trump, non posso dirti le cose che ha potuto commentare su Donald Trump e... No, invece dicele perché no, dicele! Non gli era simpaticissimo. Assolutamente, non era simpaticissimo, non era nel suo stile ed era un momento, il 2015, in cui Kissinger diceva che il suo comunista preferito al mondo era il nostro napolitano. Ah vedi. Tommaso, potremmo dire che il potere logora chi non l'ha mai avuto, lui che l'ha avuto, invece arriva a cent'anni. È la rappresentazione vivente. È una leggera variante rispetto alla frase di Andreotti. Ma no, effettivamente era la frase di Andreotti, comprendeva questo, nel senso che l'esercizio del potere conserva la salute molto più, sempre citando Andreotti, l'esercizio fisico. Andreotti raccontava sempre che tutti quelli che gli avevano suggerito di fare sport e che facevano sport a loro volta erano morti molto prima di lui, al contrario dei potenti. Se ci fai caso, i potenti, quelli veri, campano sempre molto a lungo in media. Ecco, ma chiedo sia a Drusilla che a Stefano, cioè in qualche modo l'essere cattivi aiuta a vivere di più che Kissinger, diciamo come ci ha raccontato Giovanna, grandissimo personaggio, ma certo anche molto discusso. Sì, molto discusso, anche perché è stato chiaramente un Nobel per la pace, si espresse contro il nucleare, in una modalità che mi incuriosì perché disse dobbiamo trovare un'alternativa meno violenta alla bomba atomica, che non mi sembrava un discorso così pacifista. Però insomma va bene, probabilmente erano anche dei momenti in cui bisognava esprimersi con moderazione o con delle distanze. La cattiveria tiene in vita, ma insomma a volte no, non sono solo i migliori quelli che se ne vanno, ho conosciuto tante carogne che sono morte, non credo, non credo che sia, credo che in qualche modo la cattiveria dia un vigore, un attaccamento a restare, all'essere, all'agire che probabilmente facilita la vita, però non deve essere un invito. Giovanna, io prima ho rifatto la frase di Anderotti al passato dicendo il potere non logora chi non ce l'ha, ma chi non l'ha avuto, perché lui oggi non ha più potere, o ancora conta? Sicuramente ancora conta, sicuramente ancora conta, è l'uomo a cui tu pensa, non so, l'ascesa della Cina, la guerra in Ucraina, è l'uomo ancora a cui ci si rivolge, ma cosa pensi su, ma cosa credi che? Ed è straordinario perché ancora gli funziona tutto bene e c'è su questi cento anni di potere, di trame, di cose che lui sa e che noi vorremmo sapere e non sapremo mai, c'è anche questo vago sentore di saggezza che oramai a cent'anni e subentrato.